Matti Costruzioni Dal 1958 immobili di pregio in oltre Popavese e nella riviera Ligure Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio Ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5 La regione Lombardia stanzierà 30.000 euro per i progetti Voghera No Slot e A Che Gioco Giochiamo Presentati rispettivamente dall'assessorato alla cultura, commercio e scuola E da quello ai servizi sociali Per il bando dedicato allo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico Due piani di intervento differenti, spiegano gli assessori Marina Zaretti e Simona Virgilio Con azioni particolarmente incisive Ideate per essere complementari e per andare ad agire su target molto ampi Dagli studenti delle scuole media e commercianti, dai cittadini agli insegnanti Spiega l'assessore Zaretti L'ottenimento di questo fondo dimostra il grande impegno del comune per contrastare questo fenomeno Una buona volontà che si scontra con le intenzioni del governo nazionale Che liberalizza le sale slot e realizza pubblicità spasmodiche sui grattevinci Le fa e col sindaco Carlo Barbieri Voghera No Slot prevede la realizzazione di 5 attività dedicate all'informazione e alla comunicazione Per sensibilizzare il pubblico Uno spot, la prima giornata No Slot a Voghera Un vademecum da distribuire con semplici suggerimenti La seconda azione prevede momenti formativi per i ragazzi delle medie Per gli insegnanti e i genitori E l'anternanza scuola-lavoro per i ragazzi del Maserati Affiancherà l'azione rivolta alle scuole Quella della ricerca condotta dall'Università di Pavia Per analizzare i comportamenti dei ragazzi Grande novità poi la possibilità per i commercianti Che vogliono dismettere le apparecchiature del gioco d'azzardo Di avere a disposizione un avvio di assistenza legale gratuita Grazie allo sportello avvocato No Slot Infine si realizzeranno momenti aggregativi e alternativi al gioco d'azzardo Come feste dedicate ai giochi tradizionali Per coinvolgere un pubblico ampio E per educare il valore sociale del gioco sano Ma anche un concorso d'arte dedicato agli artisti vogheresi Di generi differenti La bellezza dell'arte contro la malattia dell'azzardo Ecco, sessore, durante la conferenza si è parlato molto Della volontà di sensibilizzare le attività commerciali della città Dal punto di vista invece della regolamentazione degli orari Il Comune di Voghera ha mai preso in considerazione l'idea di regolamentare la chiusura Magari delle sale slot che possono chiudere ad orario molto inoltrato Per esempio fino alle due di notte Magari anticiparla? Sì, sì, guardi Da subito ho cercato di capire quali azioni potessero essere avviate Nel territorio comunale di Voghera Per combattere appunto questo fenomeno Sicuramente questo progetto è stato una priorità Altre iniziative verranno valutate Naturalmente devono essere condivise dalla mia amministrazione Intanto ho fatto fare un'indagine appunto su quelle che sono le iniziative Che sono state prese in termini di orari Nei comuni limitrofi Su questo ci stiamo lavorando Facendo le opportune verifiche Anche se è da dire che Tu chiudi, fai chiudere, obblighi a chiudere un'ora prima qua Poi si spostano e possono trovare una sala giochi aperta A distanza di 50 metri in un comune limitrofo Quindi insomma bisogna fare una riflessione E valutare bene insomma quali iniziative e come Anche su questo fronte Forse proprio per questo è importante la collaborazione Tra tutti i comuni della zona Cosa che tra l'altro è avvenuta Per quanto concerne i due progetti di cui abbiamo parlato oggi Certo, certo Bisogna fare delle riflessioni e condividerle assolutamente Cioè un'iniziativa importante su questo fronte Deve essere assolutamente condivisa da tanti comuni limitrofi Poi ci rendiamo benissimo conto Che ci può essere anche un risvolto economico importante Che va tenuto in considerazione Per cui bisogna anche Io credo comunque che sia veramente importante Creare un minimo di maggior coscienza civica E maggior senso del dovere anche nei confronti dei propri familiari Perché tanto molto spesso sono le persone che giocano Sono persone che hanno una famiglia E che riducono le possibilità di welfare della propria famiglia Buttando via i soldi Quindi credo che sia molto importante Avviare questi progetti di prevenzione e di sensibilizzazione Voghera con due progetti Entrambi approvati Dimostra veramente che la nostra amministrazione È sul pezzo Assolutamente Lei pensa che i titolari delle attività commerciali Che magari basano come lei ha detto Anche in conferenza Buona parte dei loro guadagni Grazie alle slot machine Riceveranno con piacere questo progetto Avranno la sensibilità necessaria Per capirlo Per comprenderlo Oppure rimarrà un po' antipatico A questi titolari delle attività commerciali Beh, cosa posso rispondere? Chiedetelo a loro Sicuramente possiamo capire Che se uno ha un locale con le macchinette le tiene Vuol dire che da una parte avrà una necessità economica Di un guadagno naturalmente per avere un'attività Dall'altra ce le ha Quindi è un fatto materiale È chiaro che forse sensibilizzarli Quindi anche offrirli come in un'azione prevista nel mio progetto Una consulenza anche legale E anche economica E spiegare anche quali possono essere altre forme di reddito Che non siano le macchinette Anche se sappiamo che purtroppo oggi le macchinette fanno guadagnare Ma c'è anche da dire una cosa È vero, fanno guadagnare perché sono giù Ma anche perché c'è tanta gente che ci gioca Quindi è un po' un gatto che si morde la coda Iniziamo a cercare di tranciare un ramo E vediamo cosa succede A che gioco giochiamo invece il progetto che prenderà il via per i primi di luglio Con l'istituzione di una cabina di regia per la pianificazione delle iniziative Che includeranno i cineforum con proiezioni di film a tema azzardo Seguiti da dibattiti facilitati da operatori Nei mesi di ottobre e novembre inizieranno e proseguiranno per tutta la durata del progetto Laboratori informativi e formativi e incontri mirati per target di popolazione e luoghi di aggregazione specifici Tra cui le attività nelle scuole e nelle aziende Attività di ascolto e primo orientamento alla rete e dei servizi nei quali trovare aiuto e cure Con l'attivazione di spazi di sostegno psicologico e consulenza riguardo ai bisogni di natura legale e sociale A persone che presentano una modalità problematica o patologica di gioco d'azzardo E ai loro familiari Manifestazioni sportive non agonistiche in collaborazione con il Centro di Medicina dello Sport dell'Università di Pavia Finalizzate a promuovere la pratica sportiva quale comportamento sano e preventivo E al bisogno come supporto ai percorsi di riabilitazione e affrancamento dal gioco Economicamente per il Comune cosa significa impegnarsi in questi due progetti? Allora riceve sicuramente un finanziamento da parte della Regione appunto Essendo stato approvato questo progetto legato al welfare e ai servizi sociali Economicamente allora è previsto un cofinanziamento da parte del Comune di 7.500 euro Che consiste in valorizzazione di personale e di utilizzo di locali e materiale informativo